Sento il bisogno di ringraziare i miei primi passi. Ho bisogno di fermarmi per riflettere e valorizzare tutte le cose che ho fatto finora. Ho bisogno di guardare in alto partendo dalle radici. Perché ogni attimo, ogni sfida, ogni scelta, ogni desiderio mi ha portato dove sono ora. E ora so che veramente tutto, tutto quello che è successo, ha costruito la complessa trama del mio destino. Questo disegno lo posso sentire in ogni cosa che sfioro, nella scintilla di una nuova idea, nello sguardo di chi mi accompagna, nella libertà di apparecchiare il sogno di una nuova impresa. Non avrei mai immaginato di arrivare fin qui. E nello stesso tempo lo sapevo già. È come un segreto nascosto in un profumo o in un gesto. Devi solo essere pronto a respirarlo o a danzarlo. Ci sono momenti nella vita in cui il passato, il presente e il futuro si mescolano, si mescolano e si incontrano. E tutto appare più grande, più vero e pieno di senso. Questo è il momento per andare, per seguire la strada e l'istinto, per sperimentare e osare. E ancora, per esultare. Davvero vita, ti ringrazio, perché attraverso la passione, la cura dei dettagli, il rispetto delle radici e l'audacia, mi hai portato fino a qui, dove ogni giro è una giostra di scoperte. Dove ogni persona è un gruppo, dove ogni arrivo è un inizio, dove tutto comincia ogni giorno, perché ha già cominciato ad esistere molto tempo fa. E solo ora mi rendo conto che era già ora. è un progetto. Grazie a tutti.